Sto cazzo del picciolo ce l'ha proprio con me? Eccola, ui! Dottore, la fa una partita con me? Ma io sono direttante! Eh, le fa bene alla linea! Giusto per farla contenta! Dovatevi là! Sì, arbitro io! Pronto, dottore? Respiri bene! Perché? Per l'ossigeno! Un bel respiro! Si riempie i polmoni! Batto io! Dottore, ribatta, ribatta! Ma per cazzo!